Dichiara il falso e per due anni incassa il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza di Pescara però ha scoperto una trentenne forbetta del reddito. La donna infatti ha ricevuto per due anni oltre 24.500 euro dichiarando il falso dopo aver certificato di avere a carico una famiglia allargata e un patrimonio inesistente. A scoprire la truffa sono stati militari della Guardia di Finanza di Pescara che hanno accertato l'indebita percezione del sostegno economico ai danni delle casse dello Stato. La trentenne è stata denunciata dai finanzieri per aver prodotto documentazione non vera al fine di intascare un contributo non spettante per mancanza di requisiti previsti. Revocato il beneficio è stato effettuato anche il sequestro preventivo degli oltre 24.500 euro in contanti ricevuti illecitamente costituenti profitto del reato. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno certificato la convivenza della trentenne con la suocera, sempre percipiente al reddito di cittadinanza, e l'intera famiglia di origine del compagno, in realtà proprietario dell'immobile di residenza dei due nuclei familiari e di un'auto totalmente incompatibile con la ricezione del beneficio. Inoltre anche la donna risulta aver acquistato un appartamento senza comunicare la variazione del proprio patrimonio immobiliare. Nessuna menzione infine delle vincite di denaro di quasi 11.000 euro ottenute dal compagno tramite giochi e scommesse online.